Ora sta benedetta tratta, aveva un banca, ho capito, ci mancano praticamente centa mila di euro, gli mandavo un telegramma chiedendo un mio aiuto. Ora io, Paolo, hai fatto le cose umanamente, divinamente impossibili. Conferenza, mi aiuto a impegnare il vestito uomo della mia moglie, hai parlato persino con Don Goffi, ora, in conferenza, sono tutte forme poi, non so, ci rungono magari l'occhio, tutti i due cavoli, ma lo scopita, l'occhio di Boten, ne pichiamo solo, non rungono niente. Quando hai bisogno? Centa mila di euro. Vabbè, ti rungeremo. Paolo, tu ne la duremi! Aspetta, 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 aspetta. Non farò, si, me ne avrebbero volato. Si, me ne avrebbero volato. Paolo, non faccio manco chi dovrebbe dire. E tu non le so che morirò, che cosa? No, te me l'avrei chiesto, ti firmo persino un atto di cerzione, tu potremmo, no, non hai bisogno. Ti firmo una cambiata. No, no, che ne fai. La vita è pa' morte. Ma pa' morte, ancora c'è tempo, non ti preoccupare. Tu si vedeva venire sopra il ciccino. Non ti preoccupare. tu non sei pace ma sai che volerì capire un figlio ma dai che facevano, avevo solo un giardino e poi venivano la penesina è pronta è un nuovo giardino d'aranca me ne vai, me ne vai aspetta, aspetta, sta parlando per te sta passando, ancora non è ora, non è ora ancora mi ha parato il suo figlio vincenzino che è a Genova io già, io credo di questo tempo appena picchino l'aria di fuori lo paese non ci vuole un'orecchio ma d'accordo con il suo figlio quale ne vuoi? non ne vuoi? io sono stato un giuvaluare, non ne vuoi non ne vuoi, non ne vuoi, non ne vuoi signorina, alla penesina porta l'onorato cognome di Marino ma pari, Marino con la M maiuscola come adorare di Francesco Marino ma pari? dove ci vuole Francesco Marino ma dimmi una cosa, chi fa? l'avvocato la cosa è vero la cosa è una foto la cosa è una foto perché se vuole stare a Roma non è una foto al paese io non capisco, vuol dire, stare a Roccata non capisco che è un picciosti che è un belere quando è vero che ha fatto? che ha visto affare? la cosa è una foto che si muffa, ruggia ma che ne sape? chissà cosa ne sape in un paese che non c'è in Cina, non c'è in Giaccio, non c'è niente che ha visto affare? che ha visto affare? e vedo di qui, non c'è solo manco film i fammi, le caccio che ci sono, sempre le caccio che stanno sempre buttoriati andando furiolo facendo vire non leemu la massa i maschi stanno abbiaviati nella casa e si fanno rosaccare gli muschi e poi ci sono arrivati a dire che non c'è da andare a andare a cacciare i soldi dice giusto ma così allora poi arriva a casa che c'è l'idea e ogni sera un buonato con una cama che raccoglie solo che spacchia i pezzi i cuori mi vestiamo due ballerini per fare piacere il cartone potere ma sto stare a Roma già si riscala, se ne gode l'occhio se faccia è vero San Percio vero re, vero papa veri bimini di alto borgo che ne sapevi che sarebbe certo se fanno avanti nel progresso, nel commercio si ostruisce e si vede che il ragazzo ha questa inclinazione sfaccinamento non è inclinazione, sfaccinamento come su cavi sarà stato i canali ma per conto mio posso fare fin da che io non sono più sazio io non posso fare che mi faccia fare piacere io figlio non esisto più io non faccio niente di particolare infatti posso neanche una gamba con chi tu ma quella e se capisce, travaglia io e mai ora lo faccio morire raffa la sua cazzo è la vista munici si fa la vista fatta un signore che fai signore? magari a Roma a farciare a Roma chi tu ne hai ricordi? magari con chi tu vuoi dire perché non ci sono non è un po' d'accordo? perché io con lui l'occhio sull'armi ne esce? vero che mi la fa mangiare a squarare e con le pute la scea limpia e me ne pute tanto basta ora sono in bastire ora che sta a fare? ma poi ma poi quando è che muro tu? tutto 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 il caettono non diventa solo che significa che io non lo faccio non lo faccio non lo faccio non lo faccio che è danare non lo faccio ma poi che ha visto da fare? ma che fa? il peggiotto richiesto che ha visto da fare? oltre a un paese non c'è niente ma non c'è di altro non c'è niente di niente non c'è niente no ma non c'è niente ma non c'è niente che dice scopita non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile il peggiotto si vanno avanti si vanno avanti nel commesso nell'industria che va dicendo che va dicendo ma cosa ne faccio se ne andai chiesto se ne andai chiesto se non si vede ora un figlio ma che cosa fa a Roma? che fa? che fai? che fai? questo figlio è il nostro nopato che è a Roma e fanno la stessa cosa si fanno avanti nel commesso nell'industria si fanno avanti eh che fai? che fai? che fanno avanti? che fanno a dire? a Roma a Roma a Roma se signora a Roma perché che cosa ci volessero? la soldata la soldata io capisco ora i soldi su un piccolo tu pensa per dire io non avresti potuto dare invece una manutenza che ci passava e per colazione non c'è mostarda non c'è un po' di figurine e ora invece se ne passi 50 e mangia gli altri e facciano io ce ne passi 500 io mangia ieri se va bene e fa il panzerotto io me ne fai e basta la venduta difficile ci vuole fare eh 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 ma dove sta stare a campi ciò ti chiede? non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente a descartare del regno a descartare casera a descartare del regno a descartare niente non paga senza lia do l'acqua e adesso c'è niente non c'è niente manco un mero, manco un mero che c'è, scopita un mero che viene da un'automissima e porta la risetta già bella scritta tu che hai la premia, che c'è la risetta fa a premia? tu hai la gusse, che c'è la risetta fa a gusse? ma questo non c'è, manco una mammana ma che c'è a fare con questa mammana? io non c'è a fare niente ma non c'è una parecchia lascio lo stare, lascio lo stare guarda che c'è Roma guarda che c'è Roma scopita, guarda qua il giornale d'Italia, come c'è ora ora io avevo 10 anni che sono abbonato Roma, la guscia, famma, famma Colosseo, il Pincio, la Borghese la piazza di Spagna, la piazza Navona la guscia tutta tutta e le grandi ghiacce che c'è, vado qua vado qua, vado qua, vado qua, vado qua spettacolo di questa sera teatro Eliseo, Otello opera in quattro atti del maestro Verdi Argentina la cena delle bette prima mangia un po' sa boffonina teatro Valle la dame di chiesi ma 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 spagnolo che c'è scritto anziana 80 anni scippata dalla pensione da due un po' giovanasse il motorino oppure un giovane innamorato si sgraia sulla Catania Palermo io moro con un sattore di tante oggi non devo decidere di morire aspettare un sattore per morire ma chiesi ma questa cosa ma dimmi una cosa ma tu a Roma c'è stato mai? no mai tu c'è stato no manco io però è stato a Palermo per la fiera dei bestiali ah io è stato a Messina quando ho giocato al robot e io a Giardinelle tardo signorino io domani ho messo se ne presto eh signorina aveva ragione ci facciamo perdere tempo ah ci facciamo prendevaio ciao scopito vabbè vorrei stare a mangiare con me eh si vabbè vabbè buonasera buonasera ciao ciao ne vediamo ne vediamo ne vediamo chiudete i poti e finisce quest'anno che c'è la scena sentite dimmi una cosa questa regnazza va il cavale andiamo con tutto il cuore a posto perché mi dai la cena senti c'è paura c'è prestato il denaro ma uno qua non c'è prestato niente io non c'è segna non c'è non c'è prestato niente non c'è non c'è prestato niente però io quanto voglio bene a te ci ho prestato che faccio cana gente di sfede perché faccio ci ha dato c'è da un colo senza io mi portavo proprio un bell'affare 30 mila lire di prestare c'è la cavale di scopetta cavale di scopetta con tutti i p***i